Il radioregistratore portatile Trevi RR501BT è uno stereo vintage ispirato alle radio degli anni 80. Dotato inoltre di radio a quattro bande, microfono incorporato e ingresso cuffie, può essere alimentato sia con batterie che a corrente. È in grado di riprodurre sia le vecchie cassette a nastro che file MP3 dai moderni supporti USB ed SD card con livello di registrazione automatico e funzione autostop. Si connette anche in Bluetooth con smartphone e tablet per ascoltare musica senza fili da ogni dispositivo. Grazie alla funzione di registrazione potrai trasferire su cassetta tutta la tua musica preferita direttamente da radio, USB, SD card, Bluetooth e microfono. Buon ascolto con RR501BT di Trevi. Grazie a tutti!